Pace e bene cari fratelli e sorelle, bentrovati! In questa quarta domenica di avvento siamo davanti al sì più grande, quello della Vergine Maria. Dal bellissimo testo dell'Annunciazione cogliamo in particolare tre passaggi scanditi da tre parole, per prepararci al Santo Natale ma soprattutto per viverlo giorno dopo giorno, permettendo alla parola di Dio di farsi carne in noi. Prima parola, rallegrati. Dio prende l'iniziativa e rivolge a Maria la sua parola mediante un angelo. Maria aveva un progetto di vita, bello, buono, ma Dio entra e le propone qualcosa di ancora più grande, essere madre del suo figlio benedetto. E Maria si lascia interpellare, si lascia parlare al cuore e così anzitutto ci insegna a dare il primato a Dio. Vedete, miei cari, l'iniziativa è sempre di Dio, è Lui che ci ama, che ci chiama, che vorrebbe parlare al nostro cuore per orientare al meglio la nostra vita. A noi cosa chiede? Questa disponibilità all'ascolto. Ecco perché, come diceva San Vincenzo de Paoli, prima di fare è importante lasciarsi dire da Dio cosa fare, dunque pregare. Ecco perché è allora importante iniziare la giornata pregando, meditando la parola del giorno. Ecco perché mantenere un animo vigile, per saper cogliere le ispirazioni del Signore, per lasciare che sia Lui a condurre la nostra vita, le nostre scelte. Mie cari, la vita nuova che Dio ci offre non è prodotto dei nostri sforzi. Nel Natale Maria non produce da sé il Figlio di Dio, accoglie in sé e coopera con la grazia dello Spirito Santo. Così è per la nostra vita. Altro è che io penso e faccio cose anche buone, ma che partono da me e magari finiscono con me. Ben altro è se partono da Dio e sono fatte in collaborazione con Lui. Altro, ad esempio, è che due giovani decidono di sposarsi perché si piacciono. Ben altro è se si sposano perché colgono dietro una chiamata di Dio, ad un per sempre, per essere l'uno per l'altra via al cielo. Altro è che mi iscrivo all'università o faccio tanti lavori o attività in parrocchia, ma come via di fuga ad una chiamata. Altro è se li faccio perché sento che è il meglio per me. Altro è se mi imbarco nel discernimento per il sacerdozio come mia esigenza idealizzata. Altro è se avverto dietro un di più a cui il Signore mi chiama. Quindi vedete, davanti ad una scelta fa bene chiedersi, ma questa cosa viene da me o me la chiede il Signore? Scaturisce da me o da Lui? Ora, miei cari, il buon Dio rivolge il suo annuncio a Maria e l'angelo le porge un saluto bellissimo. Rallegrati. Ecco, l'annuncio di Dio è un annuncio di gioia. Rallegrati. Dio non viene a togliere, ma a dare. E ciò che chiede è per il nostro vero bene. E questa gioia, da cosa è originata, da cosa è motivata? Rallegrati, piena di grazia. Il Signore è con te. Ecco, miei cari, la gioia vera nasce dalla sua grazia e si alimenta vivendo nella sua amicizia. Rallegrati. Il Signore è con te, è per te, è dalla tua parte. Ti ha cuore, ti ama, ti rialza, ti dà sempre una nuova possibilità. Dunque rallegrati, non perché tutto va bene, non perché è nulla ciò che ti trovi a vivere o a soffrire. Rallegrati, perché Lui è con te, perché sei nel suo cuore e tu sei prezioso ai Suoi occhi. Rallegrati e allora, di conseguenza, rompi con la tua tristezza. E quali sono quelle tristezze alle quali disobbedire? La tristezza, frutto del peccato, del ripiegarci su di noi. Il Papa ci ha ricordato, Dio viene al mondo come figlio per renderci figli di Dio. Che fratello, non perderti d'animo. Hai la tentazione di sentirti sbagliato? Dio ti dice no, sei mio figlio. Hai la sensazione di non farcela? Il timore di essere inadeguato? La paura di non uscire dal tunnel della prova? Dio ti dice coraggio, sono con te. Non te lo dice a parole, ma facendosi figlio come te e per te, per ricordarti il punto di partenza di ogni tua rinascita. Riconoscerti figlio di Dio, figlia di Dio. Al di sotto delle nostre qualità e dei nostri difetti, più forte delle ferite e dei fallimenti del passato, delle paure e delle inquietudini per il futuro, c'è questa verità. Siamo figli amati. Possiamo dunque disobbedire alle nostre tristezze e riaprirci alla sua gioia. Facciamo un passetto avanti, miei cari. Maria accoglie questo annuncio, ma al contempo ci dice il Vangelo che fu turbata. Abbiamo il verbo greco diatarasso, che indica un profondo sconvolgimento, come il mare in tempesta. Maria fa i conti con il turbamento che nasce dal contatto con Dio e dalla sua proposta. Grande sì, ma potremmo anche dire non semplice. Rimanere incinta per opera dello Spirito Santo, doverlo spiegare a Giuseppe, affrontare gli sguardi e giudizi della gente, in una cultura dove se venivi trovata incinta prima del matrimonio potevi essere denunciata e lapidata. Ora, miei cari, Maria non rimane bloccata lì, non reagisce di pancia, ma cerca di capire, di andare in profondità. Dialoga con l'angelo, ascolta la parola di Dio, dunque dialoga con Dio, si chiede il senso. La Vergine Maria ci insegna ad andare in profondità. La fede non chiede di mandare il cervello a spasso, ma di tirar fuori, di ragionare secondo la parte più nobile del nostro animo, imparando a chiederci ma Dio dove mi vuol portare? Cosa mi sta dicendo attraverso questa situazione che vivo? Ed ecco la parola che le rivolge l'angelo, non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. L'angelo rasserena Maria e la invita a non temere. Secondo alcuni biblisti questa parola ricorre nella Bibbia 365 volte, come a dire che ogni giorno Dio ci dice non temere. Perché sa che noi temiamo, siamo impastati di paure. Non parlo della paura come emozione sana che ti porta a preservarti dai pericoli, ma parlo di quella paura che fa leva sull'istinto di autoconservazione e tante volte ci blocca o addirittura ci fa correre fuoristrada rispetto al vero bene che siamo chiamati a compiere. Ad esempio, quanta gente per paura di restare sola persevera in relazioni malate. Quanta gente viceversa per paura di soffrire non porta avanti relazioni sane, magari sull'eco inconscia di ferite risolte. O quante persone si riempiono di cose da fare pur di scappare da una chiamata del Signore. Non temere Maria. Ecco, il Signore ci invita a non temere. E perché non temere? Perché hai trovato grazia presso Dio. Posso superare la mia paura grazie alla fiducia in Dio, sapendo che posso contare sulla sua grazia, che c'è grazia per me. Allora io non devo misurare le cose sulle mie deboli forze. C'è qualcuno più grande su cui posso contare, a cui mi posso poggiare. Come dice il Salmo 23, anche se camminassi per una valle oscura non temo alcun male perché tu sei con me. Ciò che conta non è essere all'altezza di tutto, non è essere forti, ma essere alleati con il più forte, poggiarci su di lui, sapendo che tutto posso in colui che mi dà la forza, ha detto San Paolo. Ed ecco allora, miei cari, la terza parola, che questa volta è la parola con cui Maria risponde alla proposta di Dio. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me secondo la tua parola. Maria dice il suo sì pieno, non, vabbè, va, dato che mi tocca lo faccio. Maria è certa che non c'è nulla di più bello che dire sì a Dio, che vale la pena fidarsi di Lui, aprirsi al suo disegno d'amore. Eccomi, io sono qui, a servizio tuo, per essere dono per tutti. Mie cari, questo sì di Maria fa sì che l'impossibile di Dio diventi possibile. Dio si fa carne in Maria, Dio diventa uno di noi. Così, se anche noi accoglieremo la sua parola, se anche noi, poggiandoci su di Lui, attraversando anche le nostre paure, diremo i nostri sì, Dio potrà continuare ad agire in noi e attraverso di noi, e il suo impossibile diventerà possibile in ciascuno di noi. Che sorga la vita dove sembra non ci sia, la sua liberazione nelle nostre schiavitù, la sua consolazione nelle nostre tribolazioni, il suo perdono nei nostri peccati, il suo amore nei nostri vuoti, facendo di noi, sue fragili creature, dei meravigliosi santi. Tutto è possibile a chi crede. Che la Vergine Maria ci aiuti allora a dire i nostri sì, affinché il Signore possa trovare spazio in noi e attraverso di noi, nel cuore di tanti. Che il Buon Dio vi benedica. Pace e bene a tutti.